Siamo al villaggio olimpico, siamo arrivati nelle stanze. Questa è la nostra stanza. Con i letti abbiamo sistemato le valigie ed i letti sono di cartone. Spostando i letti abbiamo visto che praticamente sono dei pezzi di cartone incastrati tra di loro che formano il letto, che alla fine è anche comodo. Poi il materasso non è un vero e proprio materasso ma è formato da plastica riciclata. Un saluto e un bacio dal villaggio. Ciao!